Sono Giovanna Massoni, sono curatrice di Perspectives, che è una mostra organizzata da Belgium East Design. Belgium East Design è una label che federa le organizzazioni di promozione del design belga. Siamo per la prima volta in triennale, siamo molto eccitati, io personalmente perché sono una milanese, figlia di un designer, quindi conosco la triennale da molto tempo e è un po' un traguardo per me. Abbiamo deciso di proporre una mostra che rientri sempre in un approccio abbastanza rassegna, perché il cliente sono delle istituzioni governative, quindi rimaniamo su una visione piuttosto aperta e panoramica sul design belga. Però quest'anno l'idea è stata quella di proporre un design che non è solo il design del prodotto, ma anche un design che si occupa di sociale, che si occupa di pubbliche amministrazioni, si occupa di ambiente e di emergenze ambientali e dove si parla proprio di un design un po' diverso, cioè del ruolo del designer come consulente per un'amministrazione migliore, per esempio. Perspectives perché? Perché ci siamo detti che il design che si fa nel presente, quindi deve avere un utilizzo, effettivamente un'agilità, un'efficacia nel presente, deve sempre di più pensare a quello che succederà domani, quindi che sia un design a effetto duraturo e soprattutto con un effetto etico e possibilmente aperto alla partecipazione con il pubblico, con il cittadino, eccetera. Abbiamo, diciamo, per facilità di lettura creato cinque scenari diversi, il design del prodotto, quindi il design industriale, che siano prototipi o aziende che mostrano dei prodotti, il design autoprodotto, che è un nuovo fenomeno e che in Belgio si sta estendendo molto velocemente e ha ragione, nel senso che il Belgio non è l'Italia, ovvero manca un tessuto industriale forte, quindi il designer prima di aspettare di essere prodotto all'estero incomincia ad autoprodursi, ma qua è spinto all'estremo perché il design autoprodotto può essere del prototipaggio rapido in ceramica, per cui si accede addirittura a un'area di design open source, di prototipaggio rapido e quindi anche a tecniche digitali che vanno oltre l'artigianato, voglio dire. Però c'è anche il design artigianale che sfiora e va oltre anche il design artigianale diventando arte funzionale, come è il caso di Danisse Lachard, che vediamo magari dopo, o come è il caso di Kaspar Amacher che incide il suo legno con la sua forza, questo grande ragazzo che vive in mezzo alle foreste e che ama lavorare in legno e poi appunto si arriva a dei prodotti in cui c'è un discorso di riconversione o di materiali o di produzione industriale, è il caso, lo vediamo dopo, di un tappeto che è fatto con delle cinghie industriali ma tessuto a mano, oppure è il caso di un'industria che era specializzata nella produzione del mobilio per scuole, assolutamente anonimo, che diventa invece l'editore di un grandissimo designer belga, Gilles Waps, che viene editato per la prima volta, oppure che crea una personalizzazione di sedie scolastiche tristissime, tubolari, eccetera, mettendoci dei recuperi di cuoio, eccetera, è una scommessa più che altro, comunicare il design sociale, l'altro punto molto importante è il co-design, cioè il design partecipato, anche questo è qualcosa di intangibile che secondo me è giusto comunicare in queste sedi, ci vorrebbe del tempo e del tempo di cui stavamo parlando per capire meglio queste cose, ci auguriamo che ci si riesca.